Salve a tutti ragazzi ed eccoci qui finalmente in questo nuovissimo video ed oggi amici miei ci troviamo sempre qui su Skyrim con un altro video in cui il mio argoniano non lo so questa mattina cosa gli è successo sta lì con quest'aria un po' pensierosa in questo lunedì mattina in cui anche io sono alquanto rincoglionito e stanco ma c'era un obiettivo da fare anche oggi, portarvi un video, un video che sarà molto breve già ve lo anticipo perché andremo a recuperare sempre un'arma unica si trova qui a Solstheim e comunque Garen Lent questo era il mio mercatino che ho acquistato con tanta cura e amore ero qui che mi occupavo di vendere patate di cenere ma da quel che vedo non ho riscontrato nessun successo il bello è che queste patate si potrebbero fare al forno, fritte la prossima volta al massimo mi metto a vendere la sujamma insieme al bellissimo fetis ma non sarà questo il giorno, non è questo il giorno perché come vi dicevo anche oggi dopo aver recuperato la lama fantasma nello scorso video voglio farvi vedere un'altra arma unica che avrà una particolarità perché in questo luogo in cui andremo i nemici si rigenereranno nel tempo quindi voi avrete la possibilità di tornare in questo luogo e recuperare nuovamente l'arma unica e infatti questa spada è l'unica effettivamente nel gioco di cui si potranno avere più copie senza utilizzare trucchetti o glitch vari prima però di andare a vedere dove dirigerci come sempre vi ricordo di lasciare un like un commento e iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto per supportare i miei video detto questo andiamo ad aprire la mappa ah e comunque mi stavo dimenticando nel video di oggi è presente anche la bellissima genassa me l'ha fatto sapere prima che voleva essere citata nel video oh cosa è successo qua? la solca di cenere? ah no si chiama solca cenere genassa comunque il bello come tu fai le finte che prima utilizza il bastone di fuoco e poi si riequipaggia la mazza del gigante pensa che noi non la vediamo va bene ora è arrivato il momento di vedere dove dobbiamo dirigerci questa è la mappa questa è tutta soul steam e qui è dove eravamo prima roccia del corvo il luogo da raggiungere si trova al centro dell'isola e stiamo parlando del bosco di brodir una volta arrivati sul posto giustamente è scoppiato il panico perché la mia amica genassa ha dovuto fare la distruzione più totale oh ma ci sono i nixound ma che casino è comunque ragazzi non abbiate paura quello è un contenuto del creation club comunque uccidiamo tutti i predoni presenti in questo luogo ce ne saranno alcuni tra cui quello che ha con sé la spada che a noi interessa guardate la creatura dagli occhi spiritati il fatto di utilizzare più il bastone magico evoca fantasmi mi fa notare quanto effettivamente combattere senza quelle vocazioni sia molto più difficile e quanto quegli stessi fantasmi mi davano un'ulteriore mano all'interno dei combattimenti la nostra amica genassa sta combattendo eccolo qui contro il signore dei predoni è colui che ha l'arma che a noi interessa come potete vedere è un'arma a due mani sarà un'arma unica con un incantamento unico l'abbiamo ucciso un bel colpo critico sul generale questo signore di queste persone di questi nemici che abbiamo appena affrontato vediamo un attimo recuperiamo l'oro ma prima di andare però a vedere l'arma diamo un attimo un'occhiata al posto prima di tutto una piccola trappola apriamo il baule vediamo cosa c'è di bello al suo interno un elisir dell'occhio di falco 165 pezzi d'oro e una collana della concentrazione suprema e una ascia da guerra d'ebano se volete ci sarà anche una piccola mola in questo accampamento dove potrete potenziare le vostre armi in questo luogo ci si arriva anche grazie a una missione varia quella delle collane delle compagnie orientali proviamo un attimo a scassinare questo baule nascosto nella sabbia 41 pezzi d'oro un anello d'oro con zaffiro e un semplice arco da caccia non vi faccio vedere la missione delle collane perché ce ne sono tante alcune è il bello che già l'abbiamo recuperata negli altri video quindi mi sarebbe un po' difficile mostrarvi tutte quante le posizioni comunque eccolo qui il piccolo forziere delle compagnie dell'impero orientale con serratura difficile ma noi siamo fortissimi e riusciamo a scassinare tutto un bel diamante al suo interno un granato perfetto 11 pezzi d'oro una pozione di cura suprema uno smeraldo ed eccolo qui il pendente dell'impero orientale che poi al massimo fatemelo sapere in un commento la missione questa qui degli amuleti delle compagnie orientali dovrebbe anche essere buggata nel senso che una volta che riuscirete a trovarle tutte consegnate al padrone la missione verrà tolta dal registro delle quest questa è una cosa che mi ricordo poi può essere che l'hanno sistemata con degli aggiornamenti comunque in questa rastrelliera potrei trovare anche un'ascia da guerra da edrica dell'inferno molto interessante da recuperare quest'arma per il semplice motivo che ha un valore di 3413 pezzi d'oro oltre che effettivamente ad utilizzarla per uccidere vari nemici può essere utilizzata anche per fare dei soldi vediamo un attimo l'ultimo baule un grimaldello 51 pezzi d'oro una semplice pozione dei piedi leggeri e una colonna d'argento con zaffiro mi sa che abbiamo recuperato tutto quindi non ci resta che andare a prendere l'arma ma prima di fare ciò recuperiamo una bella patata di cenere per la mia bottega a roccia del corvo e andiamo dal cadavere dovrebbe essere qui dietro sotto alla pianta prendere un po' d'ombra con sé avrà una corazza nord una bella armatura da un punto di vista estetico a me sempre piaciuta ed ecco qui zanna del tuono questa è l'estetica dell'arma non è un granché però andiamo a vedere insieme l'effetto dell'incantamento il bersaglio subisce 30 punti di danno da elettricità e la metà del danno alla magica andiamola ad equipaggiare vediamo un po' questa è l'arma in tutto il suo splendore ve la faccio vedere anche in terza persona come potete vedere è un'arma veramente enorme sto spadone che andrà a infliggere questi danni elettrici a tutti quei nemici che proveranno a bloccarvi la strada un'ultima cosa voglio ripetervi prima di concludere il video che se volete altre di queste spade per darle che ne so ai vostri compagni voi potete far passare del tempo i nemici di questo luogo si rigenereranno come si rigenerà anche il signore dei predoni e con lui un'altra spada a zanna del tuono sta a voi poi decidere se volete prenderne altre oppure no io con questo amici miei devo concludere quel video mi farò ora una passeggiata nel bosco qui pieno di cenere fatemi sapere in un commento se eravate a conoscenza di quest'arma unica se l'avete già nella vostra collezione io come sempre vi ringrazio e intanto Gianessa mentre sto salutando deve sparare a questi insetti con le palle di fuoco ti ringrazio Gianessa però non mi sembra il caso durante i saluti no? ok che ti piace usare questi effetti pirotecnici però mi sembra un po' troppo per un saluto di un video non è che stiamo dicendo un addio comunque torniamo nella tranquillità e nella serietà come sempre vi ricordo di lasciare un like un commento di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e ci vediamo in un prossimo video ciao